adesso proveremo se la elego neptune 3 è waterproof andiamo un attimino con ordine sia per spiegarvi quanto è successo in entrambe le stampanti ma anche perché potrei dirvi effettivamente guardate la recensione della neptune 3 plus cambia il volume di stampa e ci rivediamo al prossimo video scherze parte parzialmente è così ma volevo spiegarvi le poche ma sostanziali differenze che ci sono tra i vari prodotti cercando di capire cosa fa più per voi ma come sempre prima di andare al video sigla sicuramente le prime due cose che cambiano in modo abbastanza chiaro sono il prezzo e il volume di stampa questo perché abbiamo andando in ordine crescente la più piccola ed economica neptune 3 pro dotata di un volume di stampa di 225 x 225 x 280 millimetri ad un prezzo di listino di 230 dollari poi anche se in realtà lo sappiamo che il prezzo è influenzato da tasse e ricarico dei vari store subito sopra troviamo la neptune 3 plus che abbiamo recensito in realtà qualche settimana fa e può stampare pezzi fino a 320 x 320 x 400 millimetri di altezza il tutto ad un prezzo ovviamente sempre di listino di 350 dollari la più grande è la neptune 3 max ovvero un mostro capace di stampare pezzi fino a 420 x 420 x mezzo metro d'altezza a specifiche cambieranno tra di loro solamente il numero di punti per l'autolivellamento perché ovviamente all'aumentare della dimensione del piatto è meglio fare più misurazioni per poter compensare eventuali problematiche l'altra differenza sta nell'alimentatore che sarà da 360 watt sulla pro mentre invece sulla plus e sulla max sarà da ben 500 watt ma anche qui c'è una cosa che onestamente non mi è particolarmente piaciuta sfortunatamente nell'ultimo periodo sto combattendo un pochino con gli sbalzi di tensione e voi mi direte che cosa c'entra ho stampato per svariato tempo con tutte e tre le macchine ma la pro e la plus non hanno sofferto minimamente dei suddetti sbalzi mentre invece la max si è riavviata a causa di ciò questo accade perché probabilmente sulla max essendoci installato lo stesso alimentatore della plus è tarato in modo tale da avere dei condensatori adeguati a reggere il piatto sotto carico anche in caso per l'appunto di un calo di tensione ecco sulla max immagino che questa riserva energetica non sia sufficiente quando il piatto è attivo di conseguenza non è un lato che metterei tra i super negativi problemi infiniti e oltre perché comunque alla fine la tensione dovrebbe essere stabile ma ovviamente ve lo devo dire giusto per farvi capire che ovviamente le prime due macchine che vi ho detto hanno più telleranza a queste problematiche a differenza per l'appunto della max però questa occasione mi ha dato modo di provare la ripresa della stampa dopo il blackout e devo dire che ha funzionato veramente molto molto bene a livello invece di differenze hardware sulla max sulla plus troviamo delle barre stabilizzatrici dell'asse verticale oltre che ad un cassettino multiuso posizionato sulla base della stampante piccole rata courage in realtà il cassettino ce l'ha solo la max mentre invece la plus e la pro ne sono sprovviste onestamente mi ricordavo male la pro è sprovvista di entrambe le cose anche il carrello dell'asse y non ha leggermente differenze tra le sorelle maggiori e la pro sulla max e sulla plus troviamo un carrello che scorre su due profili separati in alluminio ed è regolabile in altezza grazie ai suoi sei pomelli la pro invece ha una singola estrusione in alluminio che funge per l'appunto da guida lineare oltre che non avere pomelli di regolazione è così perché tutte e tre sono dotate comunque del mesh bed leveling che permette di compensare il livellamento del piatto unica differenza sulla max è che è dotata di una cinghia di dimensioni maggiorate rispetto alle altre due caratteristica unica della pro è un'uscita a 24 volte sulla parte posteriore della stampante onestamente non so cosa possa servire ma boh ok c'è per il resto stesso display stessa cinematica stessa tipologia di piatto eccetera eccetera ma cosa avevamo visto nella prima scena del video la max aveva un piccolo problema di assemblaggio che non permetteva il corretto inserimento dell'asse verticale sulla base quindi piccola toccatina di dremel e il problema è stato risolto per quanto riguarda invece la pro beh mi è stata letteralmente lanciata dal corriere dentro al cancello e fin qui ok tra virgolette il problema più grande è che quel giorno pioveva ed ero a circa due ore di macchina da qui quindi nonostante si sia presa una bella sciacquata io l'ho lasciata lì ovviamente parecchi giorni ad asciugare senza disimballarla e il contenuto devo dirvi che si è conservato perfettamente senza danni alla macchina l'ho smontata ci ho ridato un'occhiata ovviamente e top in conclusione si riconferma il mio parere iniziale relativo al fatto che la migliore tra le tre per rapporto qualità prezzo e volume rimane la neptun 3 plus non fraintendetemi le altre sono veramente ottime praticamente allo stesso pari però ovviamente da una parte abbiamo la pro che costa davvero poco offre delle ottime prestazioni e se ci basta quel volume di stampa e siamo sicuri di ciò io andrei su quella ad occhi chiusi se invece avete il dubbio che potrete stampare qualcosa di un po più grande sicuramente la scelta va sulla plus per tutti i motivi che vi ho già detto la max invece è ottima ma io la consiglio solo e soltanto se avete la necessità obbligatoria di stampare pezzi veramente enormi questo perché il prezzo da pagare per fare ciò è avere stampe relativamente più lente consumi elettrici molto superiori virtualmente una stampante più soggetta a vibrazioni oltre che un macchinario decisamente molto ingombrante pensate che in profondità dovrete avere circa 80 centimetri liberi per evitare che il piatto sbatta contro il muro però sul mercato penso sia la scelta più economica per avere un volume di tutto rispetto con una qualità di stampa decisamente buona se volessimo fare il passettino più alto dovremmo andare su macchine di tipo core xy ma ricordatevi che i prezzi gli eviterebbero davvero di tanto quindi globalmente non sono d'accordo a fare cartesiane con volumi di stampa così esagerati però allo stesso tempo per determinate situazioni e soprattutto con dei budget relativamente bassi diciamo che è l'unica soluzione e questa devo dirvi che ci riesce decisamente molto bene prima di far finire il video ci tengo comunque a ringraziare elego per avermi inviato queste tre macchine ho avuto modo di provarle per un bel po di tempo di testarle in varie condizioni e situazioni ma soprattutto paragonarle perché al momento sono delle soluzioni veramente molto buone ad un prezzo top tuttora diciamo che non sono ancora super commerciali perché comunque stanno riempiendo i magazzini quindi ci vorrà un pochino di tempo prima che comunque diventino super commerciali però confido nel fatto che prima o poi arriveranno su amazon o comunque sugli store noti sicuramente al momento sono tra le stampanti con rapporto qualità prezzo migliore quindi ragazzi io penso di avervi detto tutto mi raccomando se aveste qualsiasi dubbi domanda o qualsiasi cosa da aggiungere mi raccomando qui sotto nei commenti e quindi ragazzi il video di oggi finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace iscrivetevi commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video se sei arrivato fino qui commenta con stampante anacquata ciao 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 ciao